Ciao a tutti, bentornati oppure benvenuti qui sul mio canale. Oggi un breve video perché ho finalmente ricevuto il premio dalla DMC per la vittoria del contest. Il premio che ho ricevuto è questo. Allora, vi anticipo subito che il premio previsto dal bando non era questo. Quando è passato il Corriere e mi ha consegnato il pacco ero gasatissima perché ho detto finalmente è arrivato il premio della DMC, ho scartucciato tutto e ho trovato questa box. Sono rimasta un attimo lì a pensare perché il premio previsto dal bando non era questo ma era la Greybox, vi lascio qui l'immagine e come potete vedere nella Greybox sono presenti tutte ma tassine specifiche soprattutto per il ricamo a punto croce. Mi sono quindi chiesta che è successo? Magari nell'impacchettare ci sarà stato un errore e ho voluto scrivere alla DMC così ma per capire come mai avessi ricevuto questa box perché non era menzionata da nessuna parte. Mi hanno risposto dalla DMC che avendo scelto quattro vincitrici e non più due come inizialmente previste dal bando, due per la tecnica e due per la creatività, le ragazze che hanno vinto per la creatività hanno vinto questa box che nello specifico è la per le collector box numero 3. Si tratta di filati, adesso in limited edition, almeno la box vedete qui è in limited edition, si tratta di filati che sono specifici più che altro per il ricamo libero e poi mi scrivevano dalla DMC anche per l'uncinetto e per il macramè. Ora ve li mostro, ci sono all'interno sei gomitoli di cotton perlé da 10 grammi ciascuno in queste tonalità di colore. Oltre ai gomitoli c'è anche lo schema per un ricamo libero che è questo qui che con queste tonalità di colore darebbe poi questo risultato. È anche presente sull'etichetta della box. Allora la box in sé è molto bella, è veramente molto bella. L'unica cosa che mi ha lasciato perplessa è stato comunque il fatto che nel momento in cui il premio previsto è quello inserito sul bando, inviato a tutte le partecipanti, nel momento in cui l'azienda decide di non premiare più due persone ma quattro, cambiare il premio alle due che hanno vinto per la creatività e inviare un altro premio non menzionato da nessuna parte, diciamo che non mi è sembrato una cosa molto carina. Io da ricamatrice.croce avrei gradito la grey box, questa è bellissima, la grey box non l'avrei comunque utilizzata perché l'avrei lasciata lì come premio in bella vista, sono piena di matassine, quindi quella lì l'avrei lasciata intatta, non l'avrei neanche toccata, come lascerò intatta questa, non andrò a utilizzare questi fili, la lascerò lì, essendo un premio. Forse da una parte comunque è meglio che io abbia ricevuto questa perché comunque sono dei filati che io non ho, però ecco quella è stata l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa. A parte questo, ripeto, la box è veramente molto 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 bella. Io ovviamente ringrazio comunque la DMC, grazie per la possibilità, grazie comunque per la vittoria. Niente, vi avevo detto che vi avrei fatto vedere il premio una volta ricevuto ed eccolo qui. E se vi interessa, sul sito della DMC ci sono tutte le box in limited edition e ci dovrebbero essere anche dei saldi in questo momento sul sito. Non sono ancora andata a vedere nello specifico su quali prodotti, però mi è arrivata la mail dei saldi invernali. Io vi ringrazio come sempre di tutto, a presto con il prossimo video. Fatemi sapere se la box vi piace e cosa ne pensate. Ciao! Ciao! Ciao!